La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Ti rendo grazie perché mi hai risposto perché sei stata la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo.